Alla presenza delle massime autorità della provincia di Alessandria si è svolta nel salone dei convegni della Camera di Commercio di Via Bocchieri la celebrazione della quindicesima giornata dell'economia. Dopo il saluto del prefetto Romil Datafuri e del sindaco, la celebrazione è stata anche l'occasione per rendere noto il bilancio dell'economia dell'Alessandrino, dell'industria locale e dell'occupazione. Presidente Coscia, la quindicesima giornata dell'economia ha segnato un punto molto importante anche dalla relazione fatta dalla Camera di Commercio, molti dati sono positivi? Assolutamente sì, voglio dire che quest'anno l'abbiamo fatta noi, forse unici in Italia perché Union Camera impegnata nella riforma delle Camera di Commercio non aveva dato la data e quindi non l'ha dirammata a livello nazionale. Noi abbiamo voluto farla perché è una fotografia economica della provincia molto importante e come sottolineavi i dati sono positivi, sono dei dati lievemente ottimistici però importanti che servono poi per segnare un futuro economico migliore. Anche per l'impresa? Assolutamente sì, partiamo da un valore aggiunto dalla produzione che ha una nota positiva ma anche perché per noi è un riferimento che lo stock delle imprese, vale a dire la variazione tra le imprese nate e le imprese chiuse è praticamente invariato rispetto all'anno precedente. Per cui questo in un momento comunque di ancora di disagio e di sfiducia è un segnale positivo, come segnale positivo la riduzione della Cassa Integrazione, dei protesti e dei falimenti che sono diminuiti. Quindi è una sostanziale pareggio per quanto riguarda i depositi bancari e i prestiti bancari. Dopo l'intervento del segretario generale dell'ente camerale di Alessandria Roberto Livraghi, come vuole la tradizione, si è svolta la premiazione delle imprenditrici di successo dello scorso anno assegnata a Fabiana Cassola, titolare della ditta indivore di Via Dant, e agli imprenditori Riccardo Rovida e Giovanni De Reggibus per il commercio, Lorenzo Mondo per l'industria e Fabiano Domenico, per l'artigianato Cristina Vacchina e Roberto Brusa, per l'agricoltura premio a Giorgio Leponati, per la cooperazione Alberto Busto e Fabiana Cassola, neo-imprenditrice di successo, Laura Rosa, socia di Quintessenza di Carolina Fiori.